C'è forse una luce in fondo al tunnel per i lavoratori dell'ex centro di ricerca Intex, oggi in sitina davanti all'emiciclo per far sentire la loro voce durante il Consiglio regionale. Le interlocuzioni per portare a compimento il progetto Spese Economy avviato dalla passata giunta regionale, in particolare dall'ex assessore all'attività produttiva Giovanni Lolli, vanno avanti. A garantirlo è il nuovo titolare dell'assessorato Mauro Febo che ha ripreso in mano le fila di un discorso interrotto con le elezioni regionali e sul quale c'è totale convergenza. D'altra parte quello della Spese Economy è davvero l'unica strada al momento per permettere ai lavoratori non più giovanissimi di rientrare nel mondo del lavoro. La richiesta degli ex ricercatori è dunque l'applicazione del protocollo d'intesa firmato il 4 febbraio scorso tra Lolli e la Talestaliana Space che permetterà all'azienda partner Forender24 di assumere i primi ricercatori grazie al progetto nazionale della Spese Economy al quale la regione ha aderito con 10 milioni di euro. Il quadro è appunto, gli ingredienti sono pochi ma essenziali, ci sono i fondi, c'è l'imprenditore che è disponibile a fare un'operazione per recuperare queste competenze, ci sono le competenze, ormai è assodato che le competenze di questi lavoratori sono perfettamente spendibili nel settore dello spazio perché sono stati colloquiati, questi lavoratori, dal player principale del nostro territorio che è attivo nel settore dello spazio, vale a dire tale Salenia Space. Quindi ecco, dicevo, gli ingredienti ci sono tutti e di conseguenza manca solo la volontà perché il progetto parta. Intanto a margine del Consiglio regionale l'assessore Febbo ha ricevuto tutti i lavoratori della Intex in presidio questa mattina davanti all'emiciclo. Mi dicono al Ministero e all'Infitalia che il progetto è stato esaminato in maniera favorevole, che si attende l'ok dal mese. Ho convocato per la settimana scorsa Tales che mi ha spostato l'appuntamento e mi ha chiesto di posticipare all'11 giugno l'appuntamento. La regione è sicuramente vicino a loro e dobbiamo aspettare questo esito di questo progetto. Sono certo che Tales è interessata perché riceve un finanziamento regionale importante.